Salve amici del Centro Meteo Italiano, confermato un peggioramento meteo durante le festività pasquali. Iniziamo però a scendere in qualche dettaglio. Sabato Santo con tempo asciutto ed in prevalenza soleggiato sull'Italia grazie all'anticiclone. Durante la giornata di Pasqua però questa depressione sul Nord Africa tenderà a muoversi verso la nostra penisola. Ancora tempo asciutto domenica ma con qualche nuvolosità medio alta in transito un po' ovunque. Nella notte su lunedì ecco le prime piogge sulle isole maggiori, fenomeni poi in estensione durante la giornata di Pasquetta su buona parte della penisola. Temperature comunque in aumento grazie ai venti di scirocco con massime nella giornata di Pasqua generalmente superiore ai 20 gradi. Per ulteriori dettagli seguite comunque i prossimi aggiornamenti sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un saluto da da parte del Centrometro Italiano.